Grazie agli organizzatori del convegno. Mi sento un po' come quando sono andato a scuola il primo giorno, come insegnante, perché io ho insegnato 15 anni nella scuola. Il sentimento di fondo che viveva nel mio animo era sarò adeguato, dirò parole giuste, perché appunto non è facile dopo l'intervento di Pennac. Mi è stato affidato questo titolo, quindi di parlare di normativa e didattica. E io vorrei partire da qui, da un'immagine che ci riporta all'antichità. La scuola di Atene. Per dire, questo è il filo del mio ragionamento, come era diversa la scuola un tempo. e anche per mettere in evidenza cosa è cambiato nel divenire e quindi cosa troviamo nella complessità delle classi moderne, oltre alle difficoltà di apprendimento. Allora, ve lo dico in maniera un po' narrativa. Immaginate Aristotele che passeggia sotto il porticato del liceo, attorniato dai suoi discepoli, e immaginate che uno di loro possa dire Maestro, Agatone non ha riportato correttamente il codice fiscale nel modulo di iscrizione. Oppure, Maestro, Anfiloco e Mardonio, Mardonio è anche cacofonico come nome, quei due aspiranti discepoli che provengono dalla traccia non possiedono il certificato di residenza. Poi uno dei due ha preso domicilio al Pireo, ma il Pireo non è la stessa circoscrizione di Atene Centro, e quindi deve stare in graduatoria. Oppure, Maestro, Epimaco, che è un famoso architetto, sostiene che non è possibile ottenere la 626, in particolare perché il portico è fuori norma, non ha le vie di fuga. Ora, capite che questo è completamente assurdo, perché all'epoca la scuola si sostanziava soltanto di didattica e di pedagogia. C'era un unico requisito, per esempio, per entrare nell'Accademia di Platone. Era questo. A geometretos medeis e isito. Chi non conosce la geometria non entri qui. Punto. Niente codice fiscale, niente certificato di residenza, niente burocrazia, ma soprattutto niente leggi. Allora, nella scuola moderna, insieme a tanta complessità, a tanta complessità che sta nelle nostre classi, noi troviamo un po' mischiati elementi di pedagogia e di didattica, elementi di diritto, ed elementi di economia. elementi nel senso colonne portanti della scuola, perché se non c'è la risorsa economica, la scuola non può andare avanti. Ma anche se non c'è un complesso sistema di norme, non si può oramai andare avanti. Allora, a questo sistema di norme, io vorrei dare senso, riportandolo alle nostre questioni, e anche provando a mostrare come il diritto, o meglio la giustizia, dovrebbe essere veramente collegata con l'insegnamento. E allora, questi sono i precetti di Ulpiano. Ulpiano è uno dei padri fondatori del diritto romano e quindi dell'Occidente. I cardini sono tre. Oneste vivere, vivere onestamente. Chiaro. Alterum non ledere, cioè non intaccare, non ledere, il diritto altrui. E il terzo, sum cuicue tribuere, cioè affidare, assegnare a ciascuno il suo, ciò che gli è proprio. Queste ultime due frasi fanno parte di un singolare dialogo che si è svolto presso l'ufficio legislativo quando io ho portato in visione al capo dell'ufficio legislativo la direttiva sui bisogni educativi speciali. il capo dell'ufficio legislativo una persona singolare ricordo che amava ascoltare la musica classica io poi non ci sento bene lui aveva questa musica molto alta e lesse con molta intensità la direttiva. Alla fine me la riconsegnò dicendo alterum non ledere e io gli risposi unicuicuicum che volevamo dire? lui aveva il timore che andare incontro agli studenti con queste misure quindi strumenti compensativi ma soprattutto questa attenzione in più un piano personalizzato per uno studente potesse comportare uno sbilanciamento a favore di quello e a svantaggio del compagno di banco. quindi la sua domanda è stata ma non è che in questo modo noi stiamo sbilanciandoci e diamo di più ad alcuni e meno ad altri la mia risposta è stata no diamo a ciascuno il suo dare a ciascuno il suo significa che in quel momento se c'è una necessità è giusto che io dia di più e in questo modo io non levo a chi ha veramente bisogno e da qui il concetto di bisogno educativo speciale che deve veramente esserci vorrei aggiungere un'annotazione che poi ci riporta con il filo che vorrei dare al concetto di giustizia perché il principio di Ulpiano romano nel medioevo è stato innovato addirittura da San Tommaso il quale disse perché il principio di Ulpiano era questo giustizia est constans e perpetua voluntas ius sum cui que truibendi quindi la giustizia è una volontà inattenuata costante che vuole attribuire a ciascuno il suo diritto San Tommaso la innovò così giustizia est habitus secondum quem costanti et perpetua volontati ius sum unicui que tribut cioè la giustizia è un habitus è un abito morale secondo il quale con costante inattenuata volontà io attribuisco a ciascuno il suo inserisce introduce San Tommaso un concetto morale le parole che abbiamo sentito poco fa dal professor Pennac quando ci diceva il professore deve incarnare viventemente una disciplina ha detto una cosa bellissima io chiedo la registrazione il ministero non è colpevole ognuno ha la sua responsabilità individuale questo qui la porto a casa come una bella una bella frase ma noi non vogliamo discolparci tuttavia ha messo l'accento su questo su questa responsabilità etica quindi ha detto all'inizio noi non dobbiamo dare giudizi morali benissimo però noi dobbiamo vivere intensamente questa intensa presenza psicologica allora San Tommaso diceva questo cioè è una virtù e secondo i medievali virtù significava qualcosa che si fa senza sforzo così quasi spontaneamente allora posti questi presupposti del discorso vorrei parlare quindi vorrei accennare alla didattica faccio alcuni esempi lezione di letteratura italiana nell'ultimo anno del liceo parliamo della vita di Italo Svevo allora l'esortazione della professoressa è questa leggete la vita di Svevo e studiate il paragrafo 2 cosa c'è scritto nel paragrafo 2 si parla dell'analisi della costitutiva ambiguità dell'io nella demistificazione delle razionalizzazioni ideologiche con cui l'individuo giustifica la ricerca inconscia del piacere nell'impostazione razionalistica e materialistica dello studio dell'inconscio è chiaro a me no allora il problema venerdì partecipavo a un seminario sulla valutazione è che perché qualcuno ha anche parlato di valutazione qui che è una buona valutazione si collega a una buona didattica se questa è la didattica se tu mi chiami a ripetere questo concetto quale potrà essere la mia prestazione lo imparo a memoria tante volte te lo ripeto così com'è con qualche piccola sfumatura ti faccio molto contento non è cambiato niente nel mondo non è cambiato niente non è cambiato niente nella mia vita io non ho fatto passo avanti nella conoscenza perché non ho fatto passo avanti nella morale non comprendo meglio la vita se io imparo a memoria queste cose geografia il Piemonte ha 4.467.914 abitanti con una densità di 175,89 abitanti per chilometro quadrato vi sono 1.206 comuni tra Novara e Vercelli si concentra la produzione di riso eccetera 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 e poi si allevano 9 milioni di bovini in Italia 9 milioni di suini quasi 13 milioni tra ovini e caprini 15 500 milioni di polli da carne 50 milioni di galline ovaiole eccetera 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 allora se questo è geografia poi io su che cosa vengo valutato allora sappiamo che gli alunni dislessici hanno un problema sono vari tipi di dislessia a livello visuo-spaziale c'è qualcuno che dice mi ballano le lettere l'anno scorso è venuta qui Nam Friedman e parlava dell'esperienza di quella ragazza di 15 anni o 16 anni che aveva completamente smesso di leggere e troviamo questo articolo su internet attentional dislexia e questa ragazza dice mi saltavano le lettere in faccia risolto con la finestrella di cartone uno dei problemi è questo mi ballano le lettere l'altro è la memoria di lavoro l'abbiamo sentito oggi anche da Giulio e Martina allora se questo è ciò con cui io mi devo confrontare difficilmente ma non solo se sono dislessico anche se non sono secchione praticamente allora un esempio che voglio aggiungere a tutto questo che riguarda ancora l'università in una infinita carriera universitaria passata attraverso tante facoltà io inizio con architettura e ho avuto un professore molto famoso di cui non voglio dire il nome che insegnava plastica allora l'esame di plastica era presto a poco questo io non sono riuscito a darlo allora c'erano dei miei colleghi che stavano davanti a delle cose presto a poco si fatte e si esprimevano con parole del genere in questo artefatto possiamo osservare come le linee si intersecano secondo delle dinamiche che potremmo rassemblare la società contemporanea in quanto e andavano avanti per ore e ore senza dire molto senza dire molto parole un po' vuote avevo poi un altro professore un professore di storia dell'architettura il nome lo dico furio fa solo un maestro che ci portò il primo giorno di lezione ci vede appuntamento a Santa Maria del Popolo piazza del Popolo a Roma sapete dove c'è l'obelisco prima della porta a destra c'è questa chiesa quattrocentesca bellissima ci chiese soltanto di portare una matita e un blocco notes andati nell'altare centrale ci disse mettete la matita in modo da traguardare le colonne della navata centrale cioè in modo che una punta tocchi una colonna e una punta l'altra e noi la mettemmo giustamente a misura adesso ci disse mettetela avete preso la misura tra le due colonne sovrapponetela alla colonna della navata centrale professore perfettamente uguale benissimo avete trovato il canone cioè il canone è la misura base di tutta quanta questa chiesa spostatevi sulla navata laterale mettete al centro della matita il dito in modo da individuare la metà e provate a traguardare tra le due colonne quant'è professore esattamente la metà appunto il canone è quello della colonna centrale tutte le altre misure sono proporzionate a quella e noi rimanemmo incantati io venivo dal liceo classico non avevo fatto disegno però questo professore ci dava la chiave di interpretazione della realtà l'altro ci aveva dato una montagna di chiacchiere questa è una montagna di chiacchiere messa in ordine io provo a leggerla ciascuno di voi potrebbe leggerla sentite cosa viene il tono generale dunque il quadro normativo io oggi devo parlare di normativo il quadro normativo prefigura la puntuale corrispondenza fra obiettivi e risorse al di sopra di interessi e pressioni di parte non sottacendo ma anzi puntualizzando con le dovute imprescindibili sottolineature il coinvolgimento attivo e l'annullamento di ogni ghettizzazione come avete capito io ho letto saltando da una riga all'altra questo è il discorsificio un mirabile esempio di come si possa parlare per ore e ore senza dire niente sono sette colonne e dieci righe con blocchi di parole messe logicamente insieme che hanno una coerenza logica tra loro ma non dicono assolutamente assolutamente nulla questo è l'esempio di una bambina che farebbe propendere è vero dottor Ghidoni a bambina con disgrafia c'è anche il professor Cornoldi forse disgrafia e disortografia sicuramente quello che è impressionante è che questa è la stessa bambina che ha cambiato insegnante è vero guardate ecco qui quindi qui sta il punto noi abbiamo scritto abbiamo una una ottima legge in Italia sulla dislessia ce lo riconoscono tutti abbiamo anche completato un iter attuativo con delle norme che danno veramente una copertura quasi a 360 gradi ai nostri ragazzi quindi questo era doveroso e l'abbiamo fatto ma adesso quel che occorre è cambiare mentalità e lavorare per capire che la personalizzazione degli interventi è veramente necessaria e che non occorre una scuola punitiva questo è un brano di Don Milani che dice lei passava per il banco a sorvegliarmi come se io fossi un ladro mentre facevo il compito in classe non è questo il compito della scuola il compito della scuola è quello di far crescere e quindi occorrono bravi insegnanti insegnanti motivati occorre la formazione occorre la ricerca occorre che si crei quel circolo virtuoso tra l'università e la scuola e quindi la ricercazione e la riflessione accademica e quindi vorrei terminare con questa frase non credevo perché ho dei punti di distanza con Dewey ma questa cosa è bellissima dice per insegnare l'inglese a John occorre amare l'inglese occorre amare l'insegnamento dell'inglese e soprattutto occorre amare John vi ringrazio applausi 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 applausi